E adesso appunto la parola va ad Ann-Marie Arzma-Russ che ci parlerà degli ultimi aggiornamenti sull'Exxon Skipping. Ok, thank you. Buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Prima che si faccia una proteina è necessario che la cellula faccia una copia dell'RNA per cui il codice genetico viene collegato. I pezzi che non hanno il codice genetico vengono rimossi e gli esoni che contengono questo codice genetico vengono invece in qualche modo combinati secondo un processo denominato splicing. E poi ecco che interviene l'RNA messaggero a traslare tutto questo nella proteina della distrofina. Allora, cosa accade nella maggior parte dei pazienti di Ushen? Che manca appunto uno o più di questi pezzi, per esempio dalle zone 48 al 50. E vedete il 47 col 51 non riesce a collegarsi evidentemente, allora il codice genetico viene ad essere in qualche modo diciamo distrutto, frammentato. Allora, che cosa accade a questo livello? Accade che la cellula non può più leggere per così dire, non può più comprendere e allora durante il processo di traslazione avviene un blocco prematuro. Quindi questo collegamento con la barchetta non si può fare perché è stato fatto soltanto all'inizio, allora altri domain che potrebbero invece collegarsi alla barchetta vengono a mancare. Quindi la distrofina non funziona e dunque per il muscolo c'è un'alta possibilità di danneggiarsi. Nel caso di pazienti Becker anche qui dobbiamo parlare di mutazione per cui in parte il codice genetico è rimosso, però riesce a mantenersi perché vedete che vengono a mancare alcuni blocchi però il 47 col 52 riesce a potersi collegare, riesce appunto a inserirsi opportunamente. Quindi che cosa accade? Accade che in realtà il collegamento con la barca viene mantenuto anche se attraverso una corda un po' più corta per così dire. Quindi siamo di fronte ad una distrofina parzialmente funzionante, dunque si tratta nel caso della BMD di una patologia meno severa, meno grave. Allora bisogna ripristinare questo codice genetico, sappiamo che il 47 col 51 non riesce ad inserirsi ma col 52 sì. Allora durante questo splicing alcuni pezzi del codice genetico possono essere in qualche modo combinati, cioè noi vogliamo che accada questo salto, diciamo questo skip e questo si può fare per esempio con gli oligonucleotidi antisenso che permettono alla cellula di non riconoscere la mutazione esistente e di passare direttamente al 52. Quindi il codice genetico è ripristinato, la sintesi proteica continua e si ha una distrofina più corta ma funzionante anche se parzialmente. Sono più di dieci anni che lavoriamo a questa procedura, naturalmente siamo passati da diverse fasi, innanzitutto la cultura cellulare, cellule derivate da modelli animali in linea di massima, questo è il primo test. Allora funziona? Beh in genere sì perché le cellule sono poche, non c'è circolo, non c'è sistema immunitario, non ci sono organi che possono in qualche modo rimuovere questo composto, quindi in linea di massima il primo test funziona. Andiamo alla fase successiva col modello animale vero e proprio, i topi MDX, cioè che mancano di distrofina e chiaramente ci sono dei limiti dati dalla presenza di organi, di sistema immunitario, però in linea di massima diciamo che c'è una rigenerazione abbastanza efficace, se si ha questo grado anche minimo di rigenerazione probabilmente possiamo parlare di un farmaco promettente almeno nei topi perché in realtà nell'uomo non è detto che funzioni altrettanto. Poi c'è un autometabolismo tipico del topo, quindi alcuni farmaci non sono tossici nei topi che se ne liberano molto rapidamente mentre lo sono nell'uomo. Ecco quindi che quando si passa all'uomo intanto il primo obiettivo è dimostrare che questo farmaco almeno potenzialmente tale è sicuro e quando questo si è visto si procede a parlare di efficacia e in particolare di efficacia e di sicurezza nel lungo termine. A quel punto vedete che cosa accade nel passaggio dal modello animale all'uomo che spesso la cosa non funziona, quindi sei costretto a tornare in qualche modo al modello animale per continuare a testare il tuo prodotto quindi non funziona sempre molto bene. Ma parliamo appunto di questo topo MDX che necessita dell'exon skipping a livello del 23 e è stato visto con una iniezione per intramuscolo di oligonucleoti di antisenso si può ottenere il ripristino della distrofina attraverso l'exon skipping e questo lo si è fatto in passato ma naturalmente quando hai bisogno di un trattamento sistemico cioè devi andare a trattare tutti i muscoli dell'organismo non puoi andare a fare questa iniezione a livello di ciascun muscolo, quindi il modello del topo è stato sicuramente fondamentale per testare questo tipo di farmaco. Qui cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo collaborato con la ProSense abbiamo iniettato appunto questi oligonucleoti di antisenso in tutti i muscoli del topo per cercare di capire come la cosa funzionasse a livello dei vari tessuti. vedete in rosso gli MDX e quindi senza distrofina in blu con distrofina i topi wild type. Vedete che normalmente si arriva al fegato con questo farmaco, succede in genere con i farmaci dunque se il fegato continua nella sua funzionalità chiaramente il composto funziona. ecco qui vedete i vari muscoli, vedete il polpaccio, lo stinco, il quadricipite e poi il fegato qui vedete a livello di quadricipito uptake minimo, molto basso a livello di stinco cosa che non va bene perché vogliamo invece che questi oligonucleoti di antisenso arrivino davvero al muscolo allora vediamo che quando arriviamo al fegato abbiamo un uptake decisamente superiore ecco chiaramente ci può essere una proteina che esce dal muscolo e questo permette appunto a queste sostanze di entrare quindi in effetti questo rilascio ci permette di far sì che questi oligonucleoti di antisenso arrivino al muscolo e questo è stato un grande momento per noi quando abbiamo fatto questa scoperta poi sempre nel topo abbiamo cercato di capire le varie vie di somministrazione lo si può fare per endovena quindi nel flusso ematico oppure a livello sottocutaneo oppure intraperitoneale e vedete che l'abbiamo testato a livello muscolare in generale poi nel rene e nel fegato e vedete quello che abbiamo ottenuto quindi per endovena la cosa evidentemente funziona però a noi interessa il muscolo allora col trattamento sottocutaneo abbiamo visto che c'è un discreto uptake a livello muscolare cosa che però aumenta con il rene e con il fegato il trattamento sottocutaneo tra l'altro è più facile rispetto a quello per endovena quindi abbiamo proceduto con questo sottocutaneo e abbiamo cercato di vedere la situazione dei dosaggi quindi basso, medio, alto vedete qui anche le settimane secondo la tonalità del celeste utilizzato qui vedete quello che abbiamo ottenuto anche in termini di quanta proteina venisse ad essere costituita vedete che a livello muscolare c'è exoskipping però non c'è abbastanza proteina almeno con poche settimane di trattamento poi aumentando le settimane di trattamento riusciamo ad ottenere qualcosa di più logico forse però bisogna testarlo, bisogna testarlo perché non tutti i farmaci si comportano come uno pensa si debbano comportare a livello distinto più o meno siamo nello stesso ambito però l'exoskipping è stato meno efficace perché c'è una perdita a livello muscolare quindi come dire ci può essere una patologia che è una patologia però diversa a volte questo per quello che riguarda la patologia di tipo cardiaco quindi qui decisamente meno, un grado di efficacia inferiore veniamo all'accumulo degli effetti ecco abbiamo visto dopo sei mesi che questo esattamente avveniva quindi dopo sei mesi c'era circa un 6% di exoskipping poi si arrivava al 12, poi al 20 cioè se il trattamento è più lungo chiaramente l'exoskipping aumenta il che è sicuramente un fatto positivo abbiamo anche visto che questo trattamento semestrale non presentava problemi relativi alla sicurezza del farmaco per quello che riguarda la funzionalità del fegato piuttosto che del rene eccetera questo ha fatto sì che abbiamo cominciato un trial sistemico di cui sentirete parlare domani dalla persona che viene a parlare dalla prosenza ecco trattamento sottocutaneo per l'exoskipping a livello del 51 sicuramente i risultati sono promettenti però abbiamo dovuto tornare al topo come dicevo prima e qui vedete un esempio di questa nostra procedura cioè i trial non sono sufficienti abbiamo bisogno anche dell'esperimento sul topo quindi qui vedete i dosaggi una dose settimanale di 200 e però la stessa dose abbiamo voluto darla a livello di diciamo bisettimanalmente e poi 7 volte vedete 28.6 sempre però con 200 come dosaggio e abbiamo visto i livelli di exoskipping a livello di quadricipite, di polpaccio, di tricipite e di stinco ecco vedete che non c'è una grandissima differenza se questa iniezione la dai una volta alla settimana oppure 7 giorni diciamo una volta però ogni giorno della settimana vedete che tuttavia quando queste iniezioni sono proprio giornaliere ecco qui le cose andavano un po' meglio normalmente noi utilizziamo una biopsia muscolare non dal diaframma mentre a livello di diaframma vedete che la cosa andava un po' meglio quindi evidentemente bisogna andare a sviluppare questo tipo di farmaci testando davvero ogni muscolo che ci interessa quando abbiamo effettuato questo lavoro preclinico abbiamo collaborato strettamente con le società farmaceutiche dunque c'è un dialogo davvero aperto e costante concludo ringraziando quanti hanno contribuito al nostro lavoro veramente un gruppo di enormi dimensioni che si occupa di genetica umana ma abbiamo collaborato anche con i neurologi e i radiologi e poi devo dire che abbiamo ottenuto molti fondi intanto dal parent project olandese e poi anche da diversi istituti governativi diversi enti pubblici grazie a molte sono ovviamente pronta a rispondere alle vostre domande alla fine della sessione grazie